Stefano Muzzarelli, Muzza, 32, impiegato e sindaco. E' stardo, però determinato, bellissimo. Stavo mangiando un bel piattone di minestrone, ho sentito il campanello suonare, è venuto su da me, è cominciato a chiacchierare mentre io continuavo a mangiare questa ciotola di minestrone e a un certo punto mi ha detto, sai io pensavo per te che il tuo futuro potesse essere fare il sindaco.